Colpo grosso dei soliti ignoti, approfittando della partenza per il Brasile di Adriano, i ladri sono penetrati nella sua abitazione e hanno prelevato 14 casse di rum, tutta la produzione del Grand Grand del 1980 e 600 barili di gin tonic già confezionato. Avvertito della notizia, Adriano non si è scomposto e ha commentato, meno male che non hanno trovato la cantina. Dario Baudini, Sky Sport 24, Rio de Janeiro.